Inizia una settimana veramente, veramente difficile per Bitcoin e complessa dove credo che questo grafico che vi sto già mostrando a barre farà un po' il buono ed il cattivo tempo. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, andiamo ad analizzare quelle che sono le situazioni legate alla settimana relative alle criptovalute, quali sono i dati che dobbiamo andare a guardare, quali sono i grafici che dobbiamo andare a guardare, analisi tecnica dei mercati, analisi ciclica su Bitcoin ed Ethereum e anche su Nasdaq 100 che sta pompando alla grande ragazzi. Tre giorni verdi, tre giorni abbastanza imponenti di rialzo, probabile chiusura di un ciclo trimestrale per quanto riguarda Nasdaq 100 e ripartenza di un nuovo ciclo trimestrale. Ma Bitcoin non segue ragazzi, questo è un po' preoccupante da alcuni punti di vista e proprio nell'analisi di quelli che sono i dati relativi a questa settimana andremo a verificare quali livelli di prezzo devono essere assolutamente raggiunti da Bitcoin affinché non ci siano particolari problematiche o soprattutto non ci siano rischi di crollare al di sotto dei 22 mila dollari e anche un po' di più proprio in questa settimana. Va bene, allora ragazzi non lancio il mio Bitcoin d'oro perché semplicemente non ha portato fortuna nelle scorse settimane e quindi ho deciso che oggi non lo lancio. Però iniziamo già da subito a guardare quelli che sono i dati, intanto quelli di natura macroeconomica che ci aspettano questa settimana. Poi andiamo a vedere questo grafico che vi ho promesso prima e poi ragioniamo su due grafici di Bitcoin perché andremo a vedere proprio nella settimana, in questa settimana, quali sono i livelli assolutamente chiave, importantissimi che Bitcoin deve raggiungere a tutti i costi per evitare un crash che a quel punto potrebbe diventare abbastanza probabile proprio in chiusura di questa settimana. Andiamo a vedere intanto la questione di Powell. Powell parla domani, in pratica ragazzi, e questo credo che sia, e poi anche mercoledì, ma questo credo che sia l'unica cosa che effettivamente i mercati stiano aspettando, cioè un discorso relativo alla questione impennata nuova dell'infrazione. Cioè c'è una nuova fiamma legata all'infrazione che i mercati non avevano assolutamente scontato e questo ci fa comprendere anche che probabilmente ragazzi i rialzi di questi ultimi mesi, non solo sul settore delle cripto, ma soprattutto per quanto riguarda Nasdaq ragazzi ed SP500, quindi i mercati azionari classici, sono stati un po' forze prematuri perché i mercati si aspettavano un rientro immediato della questione legata all'infrazione, mentre sembrerebbe che questo tasso di infrazione sia sulla via della moderazione, però non sia sotto controllo un po' in maniera completa, diciamo così. Dall'altra parte però l'economia è assolutamente raggiante, oserei dire ragazzi, perché i dati relativi alla richiesta di sussidi di disoccupazione sono ridicolmente bassi, anche quello dell'ISM che è un indicatore che ci dà una indicazione appunto di recessione o espansione, indica un'espansione di mercato. Insomma sostanzialmente i mercati sono un po' anche confusi, perché da una parte abbiamo probabilmente la Fed che dovrà agire ancora sul tasso di interesse, dall'altra parte però abbiamo la recessione che non se ne è vista neanche l'ombra, quindi in pratica un'economia che funziona alla grande. Quindi probabilmente martedì e mercoledì, intorno alle 16 martedì e poi 16 mercoledì c'è un po' Paolo che parla, quindi questa cosa potrebbe muovere i mercati. C'è anche la Lagarde, ma abbiamo visto ragazzi che i dati relativi a quelle che sono le questioni europee influenzano poco i movimenti di mercato, soprattutto le cripto. Abbiamo poi le richieste di sussidi di disoccupazione, che però già ci attendiamo insomma a essere o uguali ai precedenti, o come previsto poco poco più alte ma insignificanti, quindi non è un dato secondo me questo che può muovere i mercati, la stessa cosa venerdì, tasso di disoccupazione atteso identico al precedente, sotto il livello naturale di disoccupazione, quindi piena e assoluta occupazione per gli Stati Uniti, si definisce così da un punto di vista macroeconomico. Andiamo a vedere però questo grafico che è proprio quello che vi stavo dicendo, i mercati ragazzi, mentre prima si aspettavano un riazzo dei tassi della Fed il prossimo 22 di marzo, che sarà il giorno del meeting della Fed, che alzerà i tassi di interesse e si aspettavano uno 0,25, quindi un passaggio più o meno tra 4,75 e 5,100. Adesso ragazzi guardate un po' lo switch, quindi come una buona parte sia andata a inserirsi anche in quest'altro candelone, che precedentemente era a 0, ragazzi era proprio a 0, cioè 30 e passa per cento si sta scontando anche un rialzo dello 0,5%, quindi non 0,25, proprio perché i mercati probabilmente non avevano idea del fatto che la questione inflattiva fosse così ancora forte e soprattutto che l'economia fosse così forte ragazzi, tale per cui insomma se non scende l'economia è ovvio che non può neanche scendere del tutto alla questione inflattiva e questo insomma si sa, l'economia deve essere sotto controllo, l'inflazione è legata anche al tasso di disoccupazione, è troppo basso il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti, guardate un mese fa il 6 febbraio era appunto 3% questo dato qui, quindi è andato praticamente ad incrementare tutto quanto il mese, è passato appunto un mese dall'ultima stima del 6 febbraio e il dato dell'attesa di rialzo dei tasse è passato dal 3% al 30%, questo ve lo dice lunga proprio come i mercati forse, forse siano iper ottimisti, questo bias classico dell'ottimismo veramente molto presente in questo caso. Andiamo a vedere la questione però delle analisi cicliche e poi vi faccio vedere questo grafico settimanale di Bitcoin che è il grafico più importante che dobbiamo vedere questa settimana per quanto riguarda i livelli, lo vediamo alla fine del video. Iniziamo da Nasdaq, ragazzi per quanto riguarda Nasdaq sembrerebbe proprio iniziato qui un nuovo ciclo, il precedente è stato un po' strano, devo essere sincero, io mi aspettavo che continuasse fino almeno a martedì, mercoledì della prossima settimana una fase di ribasso. Ora può succedere ancora che faccia una cosa del genere, una cosiddetta imperfezione ciclica definita appunto una lingua di Bayer, ma già da oggi questa candela non me la aspetto in questo modo, cioè deve essere una candela che tenta di sfondare questa media mobile ma adesso dovrebbe chiudere ritracciando e fare una shadow pronunciata verso l'alto. Se lo fa allora a quel punto potremmo in effetti andare a ragionare su un'eventuale poi fase di nuova ripresa di un trend a ribasso che vada a chiudere tutta questa struttura con magari un doppio minimo. Mi sembra un po' precoce questa partenza di Nasdaq ma come sempre trend is your friend, i mercati non sbagliano mai e sono, cioè oddio, i mercati sbagliano ogni tanto ma solitamente nel lungo periodo i mercati non sbagliano mai quindi noi dobbiamo seguirli a prescindere dalle nostre convinzioni. In ogni caso fino a qui ci sono stati 95 barre quindi 140 giorni quindi ci può assolutamente stare come struttura ciclica è un po' corta, la ripeto è un po' corta però non la viete al mercato di fare appunto questi 64 giorni o 43 barre per chiudere questa struttura ciclica di un bimensile un po' cortino diciamo così. Allora la soluzione poi sull'app di questo ciclo di Nasdaq è questa ragazzi cioè Nasdaq non ha e in generale anche SP in questo modo non ha vincoli da un punto di vista ciclico e neanche tecnico al stare al di sotto di questi massimi cioè teoricamente può tranquillamente iniziare una fase e arrivare verso aprile maggio proprio verso i 13.000 e qualcosa cioè superare in sostanza questi massimi dando vita al concetto della teoria di Dow dei massimi crescenti e minimi decrescenti proprio a indicare che da ottobre 2022 è iniziato una struttura ciclica di trend laterale rialzista il concetto poi del cammello ve l'ho spiegato più e più volte che potrebbe in effetti avvicinare questi mercati per tutto l'anno insomma diciamo così fino alla almeno fino a metà anno poi si vedrà perché poi verso ragazzi maggio giugno luglio incominciano ad esserci un po' di problemi proprio dalle fasi cicliche ma questo ne parleremo poi con calma tra le altre cose questa struttura ciclica di inversione ha questo livello, questa zona di Nasdaq è importantissima ma il vero livello poi importante è questo qui, il verde qui che teoricamente dovrebbe reggere ragazzi è difficile che il mercato, i classici riescano ad andare a breccare questo livello durante questo anno però teniamolo sotto stretta osservazione detto questo passiamo all'analisi mensile del ciclo mensile di Bitcoin e poi vediamo Ethereum e poi l'ultimo grafico che vi ho promesso allora l'analisi del ciclo mensile di Bitcoin ragazzi ciclo mensile di Bitcoin è iniziato il 13 di febbraio questa struttura ha chiuso a 18 giorni è assolutamente fuori da logiche di tempo cioè troppo corta questo tipo di ciclo dovrà assolutamente allungarsi ciò significa che la probabilità che da qui inizi proprio un ciclo totalmente al rialzo è un po' stride o qui c'è stata un'imperfezione oppure qui è stato chiuso metà del ciclo mensile allora a quel punto possiamo fare una cosa del genere questo è possibile ma solo unicamente se in questo punto si è chiuso metà ciclo mensile molto lungo che a quel punto farebbe più o meno 35-36 giorni quindi una cosa del genere portando poi la fine di tutta questa struttura al 20 di marzo quindi se Bitcoin riuscirà a breccare questo livello di trendline che sentite che vedete qui attaccata diciamo anche a quella che è la media mobile a 11 periodi sostanzialmente la stessa cosa io preferisco usare la media ma è uguale se Bitcoin riuscirà nei prossimi giorni a fare un'impennata classica quindi un candelone come uno dei suoi candeloni verdi e a riportarsi in questa zona dei 23.000 e qualcosa circa allora probabilmente indicherà che da questo minimo è iniziato la nuova metà del ciclo mensile che quindi il ciclo mensile di Bitcoin abbia fatto una prima struttura in questo modo e poi ne farà un'altra attenzione perché se avviene il breakout di questa trendline e delle medie mobili come vi sto dicendo non ci sono vincoli al fatto che Bitcoin debba avere questa seconda parte al ribasso di solito quello che fa quando costruisce un modello insomma grafico di questo tipo un pattern grafico di questo tipo è quello di fare una struttura di massimo più bassa ma non di minimo più bassa cioè in pratica si configura un triangolone quindi qualora avvenga il superamento di questa trendline saremmo un po' più salvi un po' più safe per il mese di marzo perché al momento la situazione resta ancora molto delicata non dobbiamo fasciarci la testa prima del tempo perché vi faccio vedere qui la questione 1, 2, 3, 4 di Bitcoin e poi un'eventuale ripartenza però come vedete dopo un candelone in atteggiamento dopo un candelone rosso ha fatto 1, 2, 3, 4 giornate in 3 day ma attenzione perché il minimo l'ha fatto dopo qui invece il minimo è proprio posizionato qui questo sembra un classico rimbalzino del gatto morto per fare poi la struttura di chiusura e poi eventualmente la ripresa però ciclicamente non ci siamo non ci siamo quindi o da qui inizia una nuova struttura ciclica che si configura come una metà e quindi in pratica due settimane lunghe diciamo così oppure va a chiudere un ciclo breve ma ci vuole il fine settimana barra vedete 27 domenica insomma 12 marzo quindi anche in questo caso sarà 27 giorni un po' breve però lo può fare tranquillamente quindi può andare in chiusura di un ciclo mensile breve diretto e quel punto secondo me non supererà mai questa zona qui entro la fine della settimana qui interviene poi quel nuovo grafico che vi sto dicendo perché abbiamo anche un livello di pricing da attenzionare proprio nel trading di questa settimana in quanto se non lo supera o se non ci arriva allora per la settimana in questione diventa molto rischioso anche il breakout di questo nuovo minimo e addirittura ve lo dico in maniera molto chiara il possibile avvicinamento anche al minimo proprio di febbraio del 13 febbraio quindi bisogna prestare molta attenzione a questa cosa quindi state qui ragazzi perché vi faccio vedere poi questo grafico perché è molto importante ascoltare quello che ho da dirvi su quel grafico lì per chi vuole fare trading in questa settimana detto questo quindi la struttura dei cicli di bitcoin ci dice che o qui è stato chiuso una metà del ciclo mensile e bitcoin deve breccare questa trend line e portarsi sopra 13,23 mila e 6,23 mila e 5 oppure se non lo fa sta andando in una chiusura di un ciclo probabilmente mensile corto che farà entro questa settimana entro la fine di questa settimana oppure se dovessimo andare un po' più in là vi ricordate che vi avevo dato la scadenza del 15 di marzo dove fanno appunto i 30 giorni classici del ciclo mensile c'è da dire che è un ciclo mensile che ha fatto un'impernata nella prima parte poi solo un trend discendente non è di buon auspicio potrebbe essere ribassista ma un ciclo mensile ribassista in questo punto sarebbe molto rischioso per bitcoin se non lo fa e non lo chiude entro la fine di questa settimana diventa tutto molto più rischioso per una serie di motivi di cui parleremo nei prossimi giorni perché la struttura ciclica si potrebbe indebolire potremmo essere in un nuovo trimestrale già a ribasso la questione diventerebbe estremamente complicata quindi speriamo in un atteggiamento differente ragazzi va bene? allora detto questo la struttura di Ethereum è un po' più chiara come sempre Ethereum struttura ciclo 26 sabato 11 marzo ragazzi mensile di Ethereum da chiudere l'11 marzo attenzione perché non ci sono vincoli al fatto che debba essere ribassista ancora una volta può fare trading range aspettare sabato fare un minimino leggero che può essere anche non inferiore al precedente ma impara di congestione e chiude il ciclo ma anche qui ragazzi questa struttura di Ethereum la parla chiaro insomma ci dice di fare molta attenzione bisogna un po' ragionare un po' su queste cose che sono molto complesse ragazzi e quindi lo so però questo è il video del trading settimanale quindi io vi parlo anche di questioni un po' più tecniche perciò fate attenzione a quello che vi dovevo dire andiamo ad analizzare quello che è invece la struttura della settimana di Bitcoin in un'unica candela vi ho messo il livello di prezzo che già qui potete assolutamente vedere e sono 22.750 questi 22.750 per me sono uno sparti acqua ragazzi cioè questo livello qui esatto perché ci indica che se Bitcoin dovesse arrivare a questo livello poi possiamo attenderci due due scenari ovviamente contrapposti ma si vedrà poi non su questa candela ma su un time frame più piccolo quindi ad esempio un time frame a 15 minuti a 30 minuti lì si può tradare in maniera molto semplice cioè il pericolo che Bitcoin possa andare a chiudere tutta la questione ciclica mensile toccando questo livello di prezzo cioè 21.000 dollari circa quell'aria oppure se fa l'opzione di metà mensile come vi avevo già detto cioè se fa l'opzione di breakout di questa trendline allora si indirizzerà verso questo livello di price cioè 23.009 24.000 dollari in pratica andrà più o meno ad avvicinarsi al massimo della settimana precedente quindi tutto si gioca tra queste due ipotesi cicliche cioè se qui deve ancora chiudere il ciclo mensile e lo farà sabato come abbiamo visto anche su Ethereum allora deve assolutamente prima di tutto raggiungere questo livello 22.007 22.008 altrimenti si rischia gravemente di arrivare al di sotto anche dei 21.000 dollari ragazzi e posizionarsi intorno a questa zona 20.000 è qualcosa quindi qualora bitcoin non raggiungesse intanto il primo step di 22.007 e 700 22.008 ci sono dei problemi ragazzi ok perché poi non basta neanche il concetto che non brecca ok la trend line che vi ho fatto vedere va in chiusura mensile è un po' anticipato ma deve comunque partire dall'alto altrimenti se ne va poi a infilarsi probabilmente in mezzo a queste due zone quindi fa un candelone rosso pesante e non è bello anche perché diciamo abbiamo visto questa struttura di ripresa un candelone rosso così pronunciato potrebbe anche inficiare un po' tutta questa struttura diversa è la questione invece se andiamo a raggiungere i 22.700 o 8 o 22.800 dollari è ancora meglio superarli in quel caso ovviamente potrebbe tenere i 21.000 e quindi fare una specie di doppio minimo con il minimo di febbraio e ci potrebbe stare perché magari anche se va poi in chiusura senza superare la trend line si chiude così la struttura ben diversa una struttura che chiude in questo modo con una candela appunto che si appoggia ragazzi al minimo di febbraio facendo anche un leggero minimo inferiore ben diverso da una candela che invece se ne scende qui e si fa tutto diciamo questa struttura ora ho ceduto diciamo i prezzi ma insomma giusto per farvi capire e a differenza invece da un punto di vista long se bitcoin dovesse intanto arrivare a 27 22.700 22.800 se dovesse breccarli e continuare la sua fase quindi andare in breakout in pratica come vedete di questa media mobile allora la possibilità gira nella prima ipotesi cioè del fatto che qui si sia chiusa una metà ciclo mensile e vada verso su al momento visto la forza del mercato di nasdaq non sembra bitcoin avere questa voglia vediamo se cambierà atteggiamento proprio in questa settimana fate attenzione a questi livelli comunque a prescindere dalle due ipotesi raggiungimento di 22.700 22.800 è fondamentale per questa settimana per oggi è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video ragazzi fatemi sapere un po' cosa state combinando anche voi in questa fase semi addormentata ma anche estremamente rischiosa come vi ho spiegato ciao a tutti a tutti